Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a me, domani imparare a me e domandare a me, poi, con la mia vita, mi darò molti quattro anni, e con i primi quattro anni che mi verranno in tasca, voglio subito fare a mio mamma una bella casacca in Italia. Ma che dico di farlo? Io la voglio imparare, da togli per gente, sui bottoni di pennanti, perché quell'uomo e con pure l'uomo per farmi subire e rimasto in mano che mi fanno già con questi denti, con i batti sono capaci di cercare da capricciare. Sono piccolo. So, so, so. So, so. So, so. So, so. So. So, so. Buongiorno a tutti. Non è che? Vedete? Grazie a te, buon e chi? Ehi, ma che ve' da morì? Il cazzo mio è del bambino a scuola. Ah, ma a scuola? Non ci sarebbe domani. Invece lo spettacolo è che l'opera oggi. Il bambino è il bambino a scuola. Ma è che l'ho promesso al barbo. Spaziali allora. Buon scuola. Andiamo a fare festa. Eh, va bene. Oggi andrò a vedere lo spettacolo. Come andiamo a scuola? Per andare a scuola c'è già più tempo. Andiamo allora per vedere lo spettacolo. Sì. Ti puoi pagare un divetto che costa quattro soldi. Ma io non ci do. Ti posso dare il mio berletto, la mia giacchetta o le mie scarpe? Che mi le fanno una giacchetta, un paio di scarpe e un berretto? Vuoi darmi quattro soldi di questo vegetale nuovo? Eh, va bene. Come cosa? Cerco il video che vedo. In una comitia abbiamo lezioni. Ciao. 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 Ciao.